che su Estra Notizie è il nostro portale di informazione dedicato a tutte le attività di sponsorizzazione in particolare che Estra svolge sui vari territori, quindi cercheremo di dargli anche un bel risalto. Quindi avrete modo di rivedervi, assolutamente molto piacere e anche nostri. La politica è che la paghiamo anche noi e uguale a voi, assicuro che non abbiamo sconti di nessun genere, però il fatto è che comunque non voglio sannare la mia azienda, anche se chiaramente 30 anni ci lavoro, quindi è la mia azienda dove sono cresciuta e dove mi riconosco anche proprio nella missione che Estra svolge sui territori facciamo tante attività importanti. Questa rappresenta secondo me una delle attività veramente più belle perché comunque danno valore a una fascia d'età normalmente sempre molto trascurata. Quindi credo che si sta colmando un po' anche proprio un vuoto che c'era, che Estra ha riconosciuto appunto di essere tale e quindi non a caso l'amministratore delegato proprio quando c'è stata la conferenza stampa di presentazione ha detto che verranno valutati gli esiti dei corsi e verrà valutata la possibilità di ripeterli, non subito naturalmente, però di dare opportunità ad altre persone di poter avere questa bellissima esperienza perché oggi senza il computer, senza i social network veramente si rischia di essere un po' immaginati in questa società dove tutto gira attorno a questi strumenti. Quindi ripeto davvero per me è una soddisfazione stasera essere con voi e vi ringrazio veramente. Spero che possiate portare anche a casa nel vostro ambiente e frequentate le persone frequentate qualcosa di questa esperienza e possiate condividerla anche con un'altra persona perché magari anche le persone che potranno sentirvi parlare di questo potranno anche essere invogliate successivamente appunto in un altro momento. Io vi inviuderei per un'ultima fotografia a fare, non so se ci entriamo qui come possiamo fare, non lo so, però tutti insieme qua con l'ha testato, non l'ha fatto tutti insieme, ecco.